Sesta giornata Super Cup, Amma Gamma contro White Wolves, risultato 1-1, gol di Squamo, risponde al gol di Vantaggio per la presenza di Runga tra le file dei White Wolves, Marino, in mezzo a due, soffisce falla, per Emanuele, per Emanuele, per Emanuele, per Emanuele, per Emanuele, per Emanuele, il tiro da lontanissimo, un pallone che finisce l'estero, si riparte da Barbato se non sbaglio, si, Barbato, guadagna un fallo laterale, Palla ancora in avanti, buono lo stop dell'attaccante, poi di Pietro Lungo, alza a Campanile, poi Di Maggio subisce falla, Nicolò sto riprendendo, mi raccomando, Pietro Lungo, Pietro Lungo sul pallone, la Runga rincorsa, Pietro Lungo il tiro, ribattuto, volevi segnare davanti alla telecamere, dice la verità, Runga, Barbato, sulla stessa linea per Squamo, perde il pallone nel dribbling, ripartono gli Amma Gamma, finisce il pallone, finisce sul fondo, Ancora la spizzata di testa, pallone che finisce sul fondo, Enzo portami a me, Enzo portami a me, Di Maggio, ripartono gli Amma Gamma, ancora un passaggio sulla stessa linea, prova un dribbling di più, perde il pallone, Di Maggio, serve Squamo, troppo lungo il pallone per Squamo, pallone che finisce sul fondo, ripeto Barbato, Di Maggio, Squamo, finta di colpo Squamo, scende il tiro, pallone che finisce sul fondo, si bomba, no? Un'unica per un incompetente, Nicolò Pietro Lungo, cerca di servire Squamo, Marino sbaglia la proiezione offensiva, Di Maggio guadagna il pallone ancora per Squamo, finisce in fallo laterale, il tiro, ancora la palla è indietro, dietro lungo, cade male, fortunatamente non si è fatto niente, va ancora di brutto, Squamo, il tiro a girare, Olivieri fa buona guardia, fallone, finisce in fallo laterale, tiriamo qui il collegamento, e...